Anche Stripe EK 786 numero 1 dello schieramento Macchina che chiude le ali e lungo i birilli è proprio Stripe EK che sfila il comando Partito molto forte dalla seconda fila Numero 3 squalificato Lungo i birilli è Super Mario Sko in seconda posizione Ma Stripe sbotta di galoppo E' partito forte dalla seconda fila Numero 5 squalificato Il pallone finisce sentenza san con il primo quarto di corsa Che viene passato da leader in 28.3 Con la mossa ora da parte di Santiago De Leon che sfila al comando Nuovo leader della corsa davanti alle tribune Con Santiago che viene seguito da Super Mario Sko I 600 in 44.7 Si è avvicinato nel frattempo anche Sabrina Dielle in quarta posizione Con cavalli che vanno al completamento della seconda piegata Il passaggio a metà corsa in 1.1 e 2 Si viaggia da 1.16 e mezzo Non ci sono per il momento variazioni di sorta Ripeto numero 3 squalificato Il chilometro rifinito dal leader in 1.16 e 4 15.2 la frazione con Santiago In seconda posizione la mossa di Sabrina Dielle Che va a scavalcare Super Mario Sko E va alla caccia del leader della corsa I tre quarti di miglio in 1.37 per Santiago Che continua a menare la danza Gli altri cavalli sono abbastanza discosti Fatta eccezione per il numero 9 di Sabrina Dielle Che ne va a seguire le mosse E prepara a sferrare il suo attacco All'ingresso in addirittura di arrivo Ancora affrontata in vantaggio da Santiago De Leon Ora Sabrina Dielle che la va ad attaccare ai 50 finali Ma Santiago De Leon per il momento Sembra ancora reagire Ultimo a fondo di Sabrina Sabrina e Santiago Ma è Santiago De Leon che la porta a casa Su Sabrina Dielle E su Siviglia Fonte terminati nell'ordine 2.17 il tempo totale da parte del vincitore di questa prima corsa 1.16.1 il ragguaglio al chilometro L'ultimo quarto in 31.16.5 per l'addirittura di arrivo La vittoria per il numero 10 di Santiago De Leon Raffaele Palomba 3.68 la quota al tot nazionale Al secondo posto il numero 9 di Sabrina Dielle A precedere in terza posizione Il numero 6 di Siviglia Fonte 10.96 il probabile ordine d'arrivo Numerico ed ufficioso Di questa prima corsa dall'ippodromo da Brussa La linea può tornare allo studio di Roma il numero 7 di one